come indossare una cinta è un tutorial stupido quello di oggi in me ne ando conto però voglio stesso realizzarlo per voi avanti a me ho una comune cinta o chiamata anche cintura cinghia e adesso vi faccio vedere come fare solleviamo la maglia e andiamo a inserire la cinta nella parte nell'estremità finale all'interno dei relativi io li chiamo fettucce li chiede di fettucce dentro la collochiamo dentro da tutte le fettucce presenti nel nostro jeans il nostro blue jeans dall'inizio alla fine facendo attenzione a non saltarne neanche uno andando a sentire con le mani tutte le fettucce presenti una volta che ho messo la cinta o meglio inserito la cinta in tutte le fettucce presenti vado a diciamo così chiudere la cinta facendo questo movimento e andando a chiuderla in maniera omogenea così punto a facendo passare anche in quest'ulta in quest'altra fettuccia che quella finale ma è quella della cinta stessa e poi a sua volta nell'ultima fettuccia che è questa qui che è quella primaria ho inserito ho messo la mia cinta al mio jeans al mio pantalone va bene non è stato complicato non è stato difficile è una persona molto semplice da fare va bene tutto era stupido ripeto ma interessante bisogna inserire la cinta in tutte le fettucce presenti questa questa e tutte le altre presenti nel jeans ok in maniera tale che tutte le fettucce vengano riempite dalla cinta va bene grazie a tutti utenti di youtube da narratore italiana è tutto ci iscrivetevi al canale ciao alla prossima